Abbiamo perso l'uscita di Pippo Sapienza come immagini, Giuseppe Pippo Sapienza e ci sono ancora appostati gli uomini di Witch. Iniziano a fluire, vedete, forze dell'ordine, due forze dell'ordine. Ante Rebice, Ante, Tommaso. Eccola, un servizio ma... Un servizio ma in realtà è libera uscita, vedete, quante forze dell'ordine. Francesco Rebice! Corretti di? Corretti di? Sì! Una serena notte! Hoorre! Grazia! C'è una bellissima là, vedete? C'è una bellissima! Sono bellissime nelle forze dell'ordine, accattivanti ma... È vilipendio! Il vilipendio! Allora io non ce l'ho con le forze dell'ordine, ce l'ho con situazioni che vedo. Posso rubarle un minuto in video? Sono un giornalista, posso rubarle un minuto? Era dentro a... È riuscito, sono un giornalista, racconto in video... Volevo chiederle un'emozione, se era dentro, se è riuscito a vedere la partita... Devo andare dentro a lavorare adesso, alle 22 e 30... Ah, è il custode del... Del Tardini! Grazie! Lo rimettiamo il... Posso rubarle un minuto in video? Chiederle che cos'è? Non la riconosco, mi chiamo Vanni Zagnoli e pubblico tanto su YouTube... Grande Vanni, io sono Marino Smidle... Devo bene, ma...